Lo sportello del cittadino è nella struttura di Chima Ambiente Amiu. Siamo dinnanzi alla stanza delle trappole, lo dico scherzando, il centro di monitoraggio e controllo. Siamo con il presidente, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Come sapete ci sono, sono state installate queste fototrappole, chiamiamole così volgarmente, che hanno la funzione di individuare, di immortalare chi evidentemente non rispetta le norme per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti e al di fuori degli orari stabiliti o anche con deposito di rifiuti in luoghi che non dovrebbero certo vedere riversati e gettati a terra, per abbandonati i rifiuti. Quindi, presidente, qui poi daremo un'occhiata a questa cabina, diciamo, chiamiamola di regia, di comando, in cui si individuano le varie foto, vengono analizzate. Ma parliamo un po' di questa esperienza. Come è andata? Cioè il cittadino che viene, ai lui e ai noi, immortalato, come la prende? Beh, sì, insomma, abbiamo delle reazioni differenti. Abbiamo in alcuni casi cittadini che si rendono conto di aver fatto un'infrazione e vengono addirittura qui in centrale. Abbiamo avuto in direzione di diversi cittadini che si sono voluti scusare, ma purtroppo, insomma... Un pentimento perusso, diciamo quasi. Assolutamente sì. Ecco sì. Abbiamo preso atto di questo. In altri casi arriva la sanzione. Abbiamo avuto anche situazioni per cui è esposta all'arrivo della sanzione. Qualcuno andava un po' in escandescenza. Eh sì, però noi siamo concordi in questa idea. Coloro i quali sono incivili e che non vogliono bene alla propria città e ai propri concittadini vanno sanzionati senza sé e senza ma. Altrimenti, voglio dire, l'idea della impunità generalizzata non ci fa andare avanti. Taranto sta facendo passi importanti. Certo, ci sono tante criticità perché l'ottimo è nemico del bene, ma noi stiamo lavorando sulla giusta strada. Ecco, Presidente, noi diamo un'occhiata così in un momento un po' di quiete in cui appunto questa stanza dei bottoni, il centro di monitoraggio e controllo va a identificare i vari soggetti. Quindi un grande lavoro dei tecnici, di chi sta lì davanti al monitor. Ora sono spenti, ma le immagini a copertura ve lo vi così illuminano sull'attività. È un bel lavoro dei tecnici che devono appunto svolgere una funzione quasi di RVM, no? Riprese video montate, quindi magari chissà in futuro qualcuno di loro me lo potrei prendere anch'io in tv. Beh, assolutamente sì. Le possiamo dire che fanno un grandissimo lavoro e soprattutto, diciamo, le richieste dei cittadini su zone critiche aumentano esponenzialmente. Dobbiamo ringraziare la collaborazione della Polizia Municipale che ci dà il proprio supporto, ma anche dei nostri dipendenti che, diciamo così, come ho avuto modo in altre circostanze di sottolineare, è un'innovazione della mia gestione, che è quella di aver introdotto questo centro di monitoraggio e controllo. Siamo veramente contenti dei risultati che stiamo avendo. Grazie a tutti.